Questa notte per la rubrica Leggiamo i filosofi leggeremo un pezzo, un brano di Friedrich Nietzsche, un passaggio tratto dall'opera Frammenti postumi 1887-1888, per la precisione un passaggio tratto dall'ottavo volume, tomo secondo in quest'opera, con gli montinari, che ne sono i curatori, hanno fatto confluire molti anche dei frammenti degli aforismi che Nietzsche e poi la sorella Elisabeth avevano progettato per l'opera la volontà di potenza e che appunto la sorella ha inserito nell'opera la volontà di potenza. Il tema è la volontà di potenza, concetto controverso, concetto che con gli montinari hanno dovuto denazificare negli anni 50-60, concetto su cui stasera tornerò leggendo il brano, commentando e facendo dei riferimenti anche all'interpretazione che Gianni Vattimo, il celebre filosofo di Torino, ha dato di questi concetti, di questi passaggi, nei suoi studi negli anni 60-70 di Nietzsche su Nietzsche. Iniziamo. Ciò che viene detto, una buona azione, è un mero equivoco. Azioni del genere non sono affatto possibili. Egoismo è del pari che disinteresse. Una finzione popolare, allo stesso modo l'individuo d'anima. Nell'immensa molteplicità di quanto accade in un organismo, la parte di cui acquistiamo coscienza è un semplice angolino e quel poco di virtù, di disinteresse e di simili finzioni viene smentito in maniera assolutamente radicale dal resto dell'accadere globale. Faremo bene a studiare il nostro organismo nella sua perfetta immoralità. Le funzioni, le funzioni animali, sono anzi per principio milioni di volte più importanti di tutte le belle disposizioni all'altezza della coscienza. Queste ultime sono un sovrappiù, in quanto non si gaiano strumenti di quelle funzioni animali. Tutta la vita cosciente, l'intelletto insieme con l'anima, insieme col cuore, insieme con la bontà, insieme con la virtù, al servizio di cosa opera? Per il massimo perfezionamento dei mezzi in nutrimento e di sviluppo delle funzioni animali fondamentali, soprattutto per il potenziamento della vita. Qui Nietzsche attacca duramente i concetti di coscienza, di anima, attacca duramente il soggetto, ciò su cui spoggia il soggetto. Perché per Nietzsche il soggetto, l'individuo e l'anima sono finzioni popolari, sono invenzioni che servono ad educare, ad indirizzare gli uomini, le persone, i popoli, le genti. Che cos'è l'uomo? L'uomo è soprattutto istinto, volontà, di potenza, insieme di atti fidelizzati alla forza dell'organismo, al perpetuare l'organismo, al funzionamento dell'organismo. Per Nietzsche, pertanto, l'uomo è un essere immorale. Certo, forse è meglio usare il termine amorale, cioè è al di là del bene e del male l'uomo. I concetti di bene e di male sono concetti morali che fondano poi il soggetto. Un soggetto, se non c'è una moralità, non è tale. Il soggetto cantiano, quello della critica della giro in pratica, il soggetto che se tu devi e perché devi, c'è una morale autonoma, quella del cielo stelta sopra di me, e legge male dentro di me, è un soggetto che proprio sulla morale costruisce la sua identità, costruisce la sua vita. E così vale per le morale anche eteronome, quelle delle religioni cristiane, islamiche, ebraiche. La soggettività cristiana, ebraica, musulmana, deriva figlia di una moralità. Cosa sta dicendo qua Nietzsche? Per vattimo, appunto, non siamo solo in presenza di un'esaltazione dell'uomo come istinto, volontà di potenza biologico-organica, dunque il vivere per vivere. Siamo in presenza di una destrutturazione del soggetto. Secondo vattimo, qui Nietzsche, sta decostruendo il soggetto. Il soggetto umano, il soggetto coscienziale, non è più un riferimento unitario del nostro agire, del nostro desiderare, del nostro volere, del nostro pensare. L'uomo è per Nietzsche, atti, atti di volontà, azioni, pensieri. Non esiste una volontà unica che raccorda, che raccorda tutto, ma non esiste una volontà soggettiva, o una volontà oggettiva. Esiste il volere, il volere, che spinge. Dunque l'uomo è amorale, l'uomo è più cuore che ragione, l'uomo è più funzioni biologiche che funzioni di pensiero. L'uomo è pensiero biologico, l'uomo è volontà di vivere come atti di volere, atti di volontà. Non è una volontà soggettiva unica. E la frammentazione del soggetto, la decorsione del soggetto, sono toccati in crisi con la filosofia marxiana, con la filosofia di Schopenhauer, con la filosofia di Freud, che continuano ad andare in crisi per tutto il Novecento. Ma chi è il grande cantore di questa frammentazione, di questa crisi? Inizia appunto. Vediamo. Ciò che si è chiamato corpo e carne conta infinitamente di più, il resto è un piccolo accessorio, esaltazione del corpo e della carne, la terra, la casa dell'uomo. Il compito di continuare a filare l'intero tessuto della vita in modo che il filo diventi seme più potente. Tale è il compito. Ma si veda poi come cuore, anima, virtù e spirito facciano addirittura una congiura per distorcere questo compito principale, come se fossero essi lo scopo. Cuore e anima che vogliono di più pensiero rispetto al corpo, come se fossero essi lo scopo. Non è così. La degenerazione della vita è sostanzialmente determinata dalla straordinaria capacità di errore della coscienza, è la coscienza che porta all'uomo la degenerazione, la decadenza. Essa viene tenuta, sei poco freno dagli istinti e sbaglia perciò lunghissimamente e profondissimamente. Misurare se l'esistenza ha valore in base ai sentimenti piacevoli o spiacevoli di questa coscienza. Si può immaginare un più folle eccesso di vanità. Non si può misurare la vita in base alla coscienza, ma in base agli atti di volontà. E se infatti solo un mezzo ai sentimenti piacevoli o spiacevoli sono a loro volta solo mezzi. In base a cosa si misura oggettivamente il valore? Solo in base al quantum di potenza accresciuta e organizzata. In base a ciò che accade, in ogni accadimento, una volontà di un di più. E soltanto a partire dalle volontà, dalle singole volontà, dei singoli attimi in che si può giudicare la vita. La vita è un accrescimento o un decrescimento in base appunto alla volontà, a questi atti di volontà. L'uomo, l'uomo, non è soltanto istinti, non ci sta dicendo questo, soltanto dice. L'uomo però è anche istinto, è pretendere di ingabbiare gli istinti, di coscientizzarli, è l'errore dell'Occidente. L'uomo non può essere ridotto ad un semplice organismo biologico, neanche pernici, ma non si può sottolutare le spinte biologiche. L'uomo va ridefinito in un contesto biologico, in un contesto corporeo, in un contesto di desiderio, di volontà. L'uomo va ricontestualizzato e quel soggetto uomo, autonomo, forte, determinato, era una finzione, era una gabbia. L'uomo va letto come un recupero di istinti accanto alla ragione, alla conoscenza e alla morale. Fondata sull'individuo va affiancato l'istinto, la spinta di vita. La crisi del soggetto che Nietzsche ci porta è la crisi del soggetto occidentale, la crisi del soggetto cartesiano, e contrappone a questo soggetto occidentale, cartesiano, platonico, una nuova soggettività fatta di liberazione, di atti, di volontà e di istinti. La crisi del soggetto